Ciao ragazzi, sono Goldtiger e noi ci siamo in questo nuovo video! L'animatronics protagonista è particolarmente stupido, tanto, troppo. Credo che porteremo solo a notte uno e farò tipo 5 episodi uno per notte. Ah! Sucked in, so you can't move at all until 6am. Brilliant! Then you get to watch me run around the cameras, doing my own thing. And I'll eventually pop in and visit you, so... Yeah, yeah, yeah. Yep, have a good night mate! I'm coming! I'm coming! Ah! I stupi, this got rotto in my arse, they fucking deserved it, it was a real c**t what are you talking about and fix the fix? you sick fa** Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 I think I'm the reason why caveman painted on walls Now why are there multiple letters here? I might as well move them If I stay in this pose for much longer Somebody's gonna ship me Oh boy I wish I could make this right That's right Yeah What? Alright What? A little bit of a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi io direi che posso bloccare la ricettazione. Ok. No dai no. Faccio anche la notte 2 dai. So you've come back for more eh? Well I can just... Non faccio anche la notte 2 perché mi si è levato il gioco quindi... Ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video. Grazie. Grazie.